Oggi, domenica 24, siamo venuti a fare il secondo presidio contro il circo a Follonica. Questo è il circo. Siamo pochi, pochi ma buoni. Ci sono i cartelloni umani, fine. Il nostro primo striscione ha avuto un sacco di impatto. Adesso io che cerco di attraversare la strada senza farmi investire, grazie. La numerosa gente nel circo sta cercando di entrare. A causa del nostro presidio stanno iniziando a entrare molto velocemente. Qua un altro nostro cartellone. Qua un po' di noi. Il nostro materiale. Nato libero. Prigioniero a vita in un circo. L'ha uno di noi con il megafono a urlare contro la gente. C'è l'entrata ormai vuota perché la gente è già entrata. Lo spettacolo è alle sei e mezzo e ora sono sei. Si vede il parcheggio già pieno. Il nostro staff per i volantinaggi. Qua un altro cartellone. Buono sei tu il vero pagliaccio. Lo sai fare meglio di tutti. E c'è da andare nei fiori. Certo. Questo per ora è quello che siamo riusciti a fare. Quindi ciao.